ingredienti dosi per quattro persone un cespo di lattuga due cipolline 300 g di pisellini 70 grammi di burro un dado da brodo e mezzo 120 grammi di riso 4 cucchiai di panna liquida basilico e prezzemolo tritati 4 cucchiai di parmigiano grattugiato e sale preparazione scaldare il burro e rosolarvi le cipolline affettate unire la lattuga striscioline i pisellini cuocere coperto e a fuoco dolce per alcuni minuti unire il dado sbriciolato il sale un litro e 25 di acqua calda quando bolle unire il riso e cuocere per 15 minuti mescolare e completare con basilico prezzemolo panna e parmigiano mescolare e servire il piatto è pronto buon appetito